Musica Ebbubusette Salve a tutti quanti ragazzi Perché questo video no sense? Allora vi spiego in breve perché faccio questo video no sense E' un piccolo avviso perché Guardate quanti scattoloni che ho fatto Guardate quanti Pieno di scattoli dappertutto Ciao Stella Questo video no sense Molto breve che praticamente è già quasi finito Serve per avvisarvi Che oggi il 31 Vediamo se si vede Si vede? Non si vede po' E' il 31 quindi domani dovrebbero Tecnicamente staccarmi internet Perché come sapete Intorno al 13-14 mi danno le chiavi della nuova casa In cui dovrò iniziare a trasferirmi Quindi connessione Andata puttane Fino a trasferimento computer e pc ricostruito Soprattutto Perché mi venire a montare e smontare Anche tutte le console Tutte quante PS3, Xbox 360, PS2, Gamecube Ciao tutto E' vero c'è anche la Wii Mi sono dimenticato Quindi probabilmente fino a che non farò il video di ritorno Sarà praticamente impossibile Per me almeno in casi extra eccezionali Riuscire a caricare qualche nuovo video dopo di questo Quindi ragazzi vi avviso subito Guardate che bella vista Che dopo questo probabilmente non vedrete più video Fino a quando non avrò completato il trasferimento Quindi ho paura che fino almeno 25-26 Proprio essendo positivi 25-26 Poi in caso di emergenza Sto pensando se farlo Vorrei caricare qualcuno dei miei vecchi video Quelli che avevo fatto sul mio vecchio canale Andri dei Mythic Ci sto un attimo pensando se farlo o non farlo Adesso vedrò Ciao sono in pigiama Ok questo è tutto E noi ci rivediamo presto con il video di Sono tornato su Youtube Bye bye